Benvenuti Jokers! Oggi voglio parlarvi di una grandissima collaborazione che la nostra serie ha ottenuto. Un grandissimo professionista che tutti voi conoscete, che è cresciuto soprattutto con la serie animata di Batman e con la serie dei videogiochi Batman Arkham, non può che non riconoscerlo, soprattutto sentendolo. E infatti alla fine di questo video ci sarà un suo contributo per farvi vedere un piccolo assaggio della sua collaborazione, che ovviamente è molto più estesa. In questi giorni vi abbiamo dato degli indizi, attraverso dei post nella community, degli indizi per svelare l'identità, per cercare di capire l'identità di una grandissima personalità, di un grandissimo professionista che proviene dal mondo di Batman italiano. Sono in realtà due delle collaborazioni illustri che Like Me, Like a Joker ha ottenuto e intanto in questo video vi svegliamo la prima di queste collaborazioni. L'ho contattato in queste settimane, ha sposato da subito il progetto con grande gentilezza, con grande disponibilità. Avendo a cuore la fan community di Batman in Italia, parliamo infatti di Marco Balzarotti, doppiatore, voce storica di Batman, della serie animata e della serie di videogiochi Arkham. Ma Marco Balzarotti ha doppiato tantissimi altri personaggi nelle serie animate, ma anche in cinema, un grande professionista tutto tondo. E sarà la voce ufficiale del nostro Batman. Essendo la nostra una fan series sull'universo di Batman, ma dal punto di vista del Joker, che ha Joker come protagonista, fino adesso il Cavaliero Oscuro non era ancora apparso. Avevamo visto Bruce Wayne, bambino, nella prima stagione, affrontare la sua strada verso il mantello, ma ancora il Cavaliero Oscuro non si è mostrato in tutta la sua forma. E nel prossimo episodio di Like Me, Like a Joker, che uscirà all'inizio del 2020, entrerà in scena Batman e avrà la voce di Marco Balzarotti. Per noi è un grandissimo gioia, un grandissimo onore avere questo supporto, avere questa collaborazione, che Balzarotti in prima persona vuole fare alla nostra community, alla community di Like Me, Like a Joker, ma anche ovviamente alla community di Batman Italia. Io vi saluto, vi invito sempre a iscrivervi al canale, a sostenere questo progetto, che va avanti con grande forza, con grande tenacia, ma senza di voi non andremo da nessuna parte. Quindi vi invito a iscrivervi al canale, a recuperare gli episodi, in vista del nuovo episodio che ha questa grandissima collaborazione, ma non solo. Ci sarà un'altra grande collaborazione che comunicheremo in queste settimane. Noi ci vediamo con un prossimo video qua sul canale. Il prossimo parlerà del film Joker, soprattutto i collegamenti tra il film Joker e la nostra serie, collegamenti casuali ovviamente, ma straordinari, che vorremmo sottolineare, e soprattutto due cose che non avete notato del film Joker, che invece noi abbiamo scovato, e quindi nel prossimo video scopriremo quali. Vi ringrazio e viva Batman, viva il Joker! Nei prossimi episodi di Like Me Like Joker